Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il tifone Canon ha colpito in questi minuti causando gravi danni e interruzioni di energia. Più di 220.000 case sono rimaste senza elettricità a causa delle forti raffiche di vento che hanno raggiunto fino a 180 km all'ora. Purtroppo, una persona è stata segnalata come vittima del tifone. L'Agenzia Meteorologica del Giappone ha descritto il tifone Canon come molto potente e attualmente sta avanzando verso ovest-nord-ovest, dirigendosi verso la Cina orientale. Si prevede che toccherà terra in Cina entro questa settimana, portando ulteriori rischi e danni nelle zone colpite. Il Giappone si prepara a evacuare oltre 760.000 residenti. Le autorità locali e i servizi di emergenza stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure di prevenzione e gestione dei danni provocati dal tifone. È importante che i residenti, nelle aree interessate, seguano le istruzioni delle autorità e prendano precauzioni per garantire la loro sicurezza durante il passaggio del tifone. Grazie per la visione, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Grazie per la visione, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.